Grazie Presidente. Sono 750 per lo più vietnamiti. Lavorano alla costruzione di una fabbrica di pneumatici e vivono in condizioni da incubo. L'inverno è alle porte e non ci sono né riscaldamento né vestiti pesanti. Tanti vorrebbero tornare a casa loro in Vietnam, ma non possono perché gli sono stati ritirati persino i documenti. Si tratta di quella che viene definita schiavitù moderna. Non stiamo parlando di qualche situazione drammatica dall'altra parte del mondo, ma della Serbia, nel cuore dell'Europa. La partnership sino-serba è fiorita negli ultimi anni, ma nasconde un lato oscuro nella forma di vistose violazioni ambientali dei diritti dei lavoratori. Giuntile Commissario, sottoscrivendo il processo di adesione, processo che io sostengo pienamente, peraltro, la Serbia ha accolto specifici obblighi ambientali e sociali che devono essere rispettati. Dobbiamo ricordarlo con fermezza. Comune, dobbiamo essere in grado però di fornire anche un'alternativa concreta ai soldi cinesi, sia con il piano economico di investimenti nei Balcani occidentali, sia con il prossimo Global Gateway. Dobbiamo fare sì che il messaggio che esista un'altra strada e che arrivi forte e chiaro ai nostri partner di Belgrado, affinché non si ripetano situazioni come quella di cui oggi stiamo discutendo. Grazie.